Devo spottare? Che devo fare? Sì, spottare. Aspetta, aspetta, aspetta a pushar. Aspetta a pushar. Asile. È morto. Oh, mi sparano. Neo. Ma non ho anche visto. Vabbè, ma... Che spuglie, mi vedi. Stiamo buscando, quindi. Uuuu. Uuuu. Vedi al boss, io sopra. Mi spada questa qui. Eh, vabbè, ma è un po' tutti i cerchini, questo. Porco il tuo. Che sta succedendola? Ah, pushando. Sta pressando? No? Sì. 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 Sono rincolati, sono rincolati. Sì. A te c'hai le cure, va, perché? No, le bombolette. Sì, appena. Porco Dio, porco. Ce l'hai le cure, anche se vuoi? Ce l'hai le bombolette, però va. C'è un altro fortino, però questo qua non so. Il fortolino. Ce l'hai un fortolino da tirare? Sì, ce l'ho. Perché qui se ci si fa danno da caduta, va messo qua. O qua. Tiralo, tiralo, tiralo il fortino qui. Che commettere. Stiamo accogliati. Un svangelo. Basta di fare nelle bici Nonno via real Che partite Nel cazzo I bottini I bottini I bottini marci Così l'Asia ha fatto la sua prima vittoria reale